ciao a tutti ragazzi e vai mi tocca fare lo sfogo anche quando non volevo porca puttana evviva ragazzi è uno sfogo non per una partita perché la prima partita di torrente io non l'ho vista per un impegno e quindi ho detto è evitato di fare il video sul padova io l'avrei voluto fare in realtà però non potevo e aveva un pareggiato col mantova non sarebbe stato uno sfogo di quelli da distruggere mezza casa oggi mi sveglio notifichina padova torrente esclude quattro giocatori andiamo a leggere terrani bifurco monaco busellato sempre loro sempre loro ragazzi io ho pensato magari quattro giocatori ma non non saranno ormai i famosi quattro gli emarginati no no sempre loro fatto è che quando bruno caneo è stato esonerato il fantastico mirabelli mister facciamo le cose formali ha detto che era caneo insieme alla società aver deciso di escludere questi dalla lista e ho pensato come caneo c'è caneo alla presentazione nelle prime interviste mi ricordo benissimo che ha detto li valuteremo e poi da come diceva lui è stata la società una scelta della società e io me la prendevo con la società non pensavo che anche caneo era in accordo con questa scusatemi il francese minchiata e invece era anche caneo che non voleva questi giocatori lo volevano sbolognare eccetera ci sono stati dei piccoli contatti per bifurco per busellato terraneo e monaco non hanno tanto mercato scusato ho fatto anche la rima e invece è caneo però adesso caneo se n'è andato ho pensato torrente li vedrà in allenamento capirà che sono forti questi giocatori cioè busellato giocava al cittadella anni fa al pescara in serie b da noi non gioca e siamo in serie c tra l'altro in che zona di classifica siamo ragazzi e busellato non gioca io non capisco cosa cosa che non va è meno forte di radrezza e cretelle dei zii a me non sembra sicuramente è più forte di franchini io non riesco a vederlo franchini non riesco a vederlo franchini boh in difesa in difesa abbiamo valentini che va lentino abbiamo calabrese abbiamo belli abbiamo germano abbiamo curcio perché monaco non può giocare cos'ha monaco cos'ha cos'ha monaco sta sta pregando e al monastero non può giocare monaco e terrani posso anche capirlo non 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 l'ho mai visto così forte terrani cioè boh ma bifulco cos'ha cos'ha bifulco cos'ha bifulco che non va non si può ammettere ha segnato cos'era contro limolese e nell'altra partita di coppa italia sareci ha segnato monaco guarda caso ma non mettiamoli ma anche torrente giustamente io che ho creduto per un attimo che potesse cambiare questa idea invece no no ragazzi no cazzo no ma sì ma teniamoli fuori ragazzi teniamoli fuori poi vediamo vediamo i risultati magari vinciamo lo stesso non si sa mai ma perché non mettere questi ragazzi perché la società non vuole metterli tra l'altro se non si trovano accordi si va di rescissione contrattuale molto bene in accordo con i giocatori e vai così neanche i soldi ci arrivano per questi quattro giocatori neanche quelli in più parlando di soldi ragazzi e ma mirabelli convintissimo che il presidente non riesco a dominarlo perché uno la società che mi crea ribrezzo al suo pensiero di quello che stanno facendo in più ha un cognome troppo lungo un gurlian la quello là mirabelli summit a madrid col presidente col proprietario anzi e mirabelli era convinto di non so scucirgli un budget extra per il mercato cosa che non è successa ha detto eh no ti accontenti fai così niente extra budget andiamo di carità vai in piazza dei signori ti metti lì così e chiedi un euro per il mercato del padova tanto zang con l'inter ha chiesto 5 euro di colletta noi facciamo uno va bene comunque c'è un mercato per la serie c si fa insomma ora metterò gli annunci nelle piazze da mettere la firmetta un euro siamo ridotti così ragazzi non so neanche se arriverà qualcuno sinceramente fatto sta l'ultima notizia che io domani sono allo stadio a vedere Padova Provercelli non vado allo stadio dalla partita con il Vicenza infatti l'unica live reaction che avete visto sul mio canale è quella se non l'avete vista andatela a recuperare e domani quindi probabilmente post partita e nei prossimi giorni magari sabato già la live reaction perché devo assolutamente farla e speriamo di vincere perché all'andata abbiamo perso fatemi sapere la vostra su tutte queste questioni degli immarginati del non avere l'extra budget e ditemi la vostra anche per la partita di domani un salutone a tutti seguitemi iscrivetevi attivate la campanellina mettete mi piace mettete un euro per il mercato del Padova a presto be' a tosi 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 Grazie.